Io all'inizio ho scritto a College Life Italia perché ho interessato a un'opportunità per una borsa di studio negli Stati Uniti. Niente, abbiamo approfondito e sono venuto a provare la Players Day Academy. Il gioco è sicuramente diverso, diverso perché è meno tattica, però il livello di intensità è molto bello, molto competitivo e è la cosa che ho apprezzato di più. Sono stato testimone oggi di questa mentalità americana ed è anche quello che mi piacerebbe davvero provare perché, come ho detto, anche l'aspetto competitivo è quello che mi ha colpito di più e che mi spinge anche ad andare lì. Ho avuto modo di giocare contro i collegi americani di Division I ad un camp con un coach americano. Quindi sì, non ho giocato con americani ma con giocatori stranieri contro questi collegi, è stato molto bello. È quello anche che mi ha spinto a approfondire il gioco statunitense perché giocando contro di loro ho capito che comunque potevo giocare con loro. Oltre ad essermi divertito ho un po' assaggiato quello che è la mentalità americana. Oltre ad essermi divertito. Oltre ad essermi divertito.